Uomo di mondo, uomo del jet set, celebrità, aviatore, anche con un passato da militare, amante della bella vita, amante delle belle donne, chiacchierato. No, non stiamo parlando di Our Jux, lo so che la maggior parte di voi ci ha pensato. Magari ha ripensato anche quel film con Leonardo DiCaprio di tanti anni fa di Aviator. No, è vero, anche se ci sono tante assonanze, il personaggio di oggi non è Our Jux. È un altro personaggio che per un certo periodo è stato coevo di Our Jux e ha avuto una parabola ben differente, almeno per quanto riguarda il resto della sua vita. Una vita comunque che si è interrotta da appena 44 anni di età. Una vita avventurosa, una vita con tante contraddizioni, una vita spesa, inseguendo la velocità, inseguendo il rischio, inseguendo la sua carriera, la sua voglia di emergere, inseguendo la violenza, inseguendo la notorietà. Ma politica e non solo, anche a costo di scontrarsi con le più forti personalità del periodo. Il video di oggi è dedicato a Italo Balbo, l'uomo che osò sfidare Mussolini. Di Italo Balbo si è detto un po' di tutto. C'è addirittura del mistero che alleggia ancora oggi sulla sua morte, ma di quello parleremo più avanti. Quello che è certo è che di Italo Balbo si è detto della sua carriera militare, della sua passione per l'aeronautica, al punto da essere riconosciuto sostanzialmente come il fondatore della regia aeronautica, quella che oggi è l'aeronautica militare. Non solo, di Italo Balbo si è parlato della sua vita mondana, delle sue amanti, di quanto fosse fascinoso e affascinante, persino all'estero, persino per popolazioni molto distanti da quella italiana. Di Italo Balbo si è detto molto. Ma chi era veramente Italo Balbo? Cresciuto a Ferrara e divenuto poi un eroe di guerra durante la Grande Guerra, Balbo ha avuto un'infanzia un po' tormentata, ragazzo sveglio, intelligente, ma addetta almeno dei suoi insegnanti all'epoca, con poca voglia di applicarsi e di studiare. Insomma, il classico potrebbe fare di più. Salta la classe quinta degli elementari per entrare subito al ginnasio, ma ha difficoltà. I suoi genitori lo spediscono a San Marino in un convitto per provare a farlo avanzare negli studi. Niente da fare. Nel frattempo Balbo, a neanche 18 anni, si avvicina alla politica. Ha simpatie di carattere socialista e repubblicano, soprattutto repubblicano. D'altronde la zona tra Ferrara e la diacente Romagna di Ravenna è zona di grande tradizione repubblicana. E in quel periodo, agli inizi del Novecento, la richiesta di riforme agrarie porta in tutta quell'area, l'area del Polesine, l'area attorno al Po, le simpatie dei braccianti verso il Partito Socialista. Si vengono a creare delle enormi fratture sociali, appunto tra la forza lavoro agricola e i padroni, i padroni terrieri, che invece sono di idee molto conservatrici. In questo ambito, il giovane Balbo cresce e cresce al punto di sposare l'idea interventista. Quando ha appena 18 anni, Balbo è un convinto assertore della necessità per il Regno d'Italia di entrare in guerra. Ma ci vorrà un annetto prima che l'Italia si faccia convincere dall'intesa a denunciare la triplice alleanza e a entrare in guerra al fianco di Regno Unito, Francia e Impero Zarista. Ci vorrà un po'. E quando l'Italia entra in guerra, Balbo si fa ruolare, ma passa poco tempo al fronte. Dopo poco rientra a casa. Il problema è che il reggio esercito ha bisogno di soldati e anche di ufficiali. Balbo riesce in qualche modo, cioè chi dice con qualche spintarella dovuta forse alle sue amicizie politiche, forse all'influenza della famiglia, a ottenere la licenza superiore. E con quella il grado di ufficiale nel corpo degli Alpini. Viene spedito in Carnia, poi viene mandato in Piemonte, perché nel frattempo sta immergendo sempre di più l'importanza di una nuova arma, quella aeronautica. Un'arma aeronautica che è molto molto giovane. Pensiamo che sostanzialmente il primo volo è avvenuto una dozzina d'anni prima e che nel 1911 l'Italia ha stabilito, diciamo così, un record, non esattamente di cui andar fieri, per aver effettuato le prime azioni di guerra dal cielo con gli aerei. Azioni ovviamente rudimentali, ma Balbo è affascinato dalle potenzialità degli aerei. Si fa trasferire in Piemonte per sperimentare la possibilità di volare. Il suo problema si chiama rotta di Caporetto, perché dopo Caporetto non c'è più tempo per lui per dedicarsi al volo. Viene richiamato al fronte e proprio al fronte combatterà ancora e sarà tra gli ufficiali che libereranno la città di Feltre dopo la battaglia del Monte Grappa. Ecco, Balbo comincia a diventare un nome. Un nome conosciuto, anche perché torna a casa con onori e decorazioni. Torna a casa anche con una fidanzata. Una fidanzata che ha sangue blu nelle vene un po', come si diceva una volta. È una fidanzata che è la contessina Emanuella Florio, la figlia del conte Florio di San Daniele del Friuli. Si sono conosciuti proprio durante la guerra. Il problema è che il padre della contessina, il conte Florio, non approva la frequentazione della figlia con quello che lui ritiene essere un poco di buono, un mascalzone, un uomo dalle maniere spicce e che viene dalla campagna. Al conte Florio non piace Italo Balbo. Tant'è vero che la coppia deve attendere il 1924, quando il conte Florio muore di morte naturale, per poter convolare a notte. Balbo, da quel momento in avanti, cerca sempre di più una strada verso la politica e la gloria. Non ha un lavoro Italo Balbo dopo la guerra. Non sa che fare. In questo momento si avvicina da un lato alla massoneria. Viene iniziato in una loggia di Ferrara, la Gerolamo Savonarola, all'obbedienza di Piazza del Gesù. La comunione massonica che è sorta qualche anno prima da una scissione del Grande Oriente d'Italia. Dall'altro si avvicina nuovamente alla politica, ma non più ai socialisti. Mantiene delle amicizie a livello repubblicano, ma a partire dal 1920 entra in contatto con il nascente partito nazionale fascista. Con i fascisti Balbo compie veramente carriera. All'inizio chiede addirittura di poter mantenere la doppia tessera, cioè anche quella repubblicana, gli viene negato. Quando il fascismo mette al bando la massoneria già per i propri aderenti, prima ancora della legge sulle associazioni di cui abbiamo già parlato in un altro video che vi invito a rivedere, ebbene Balbo vota contro, però è in minoranza. Ci sono solo altri tre dirigenti che votano contro con lui. Cesare Rossi, Giacomo Acerbo e Alessandro Dudan. Quindi è costretto a mettersi in sonno, come si dice, cioè ad abbandonare la sua loggia. Deve scegliere o il fascismo o la massoneria. Sceglie il fascismo e col fascismo inizia a fare carriera. Fa carriera perché prende il ruolo di federale di Ferrara. E non solo perché da federale di Ferrara può controllare la zona. Italo Balbo diventa un ras, come si suol dire nell'ambiente. È uno che controlla tutto e che soprattutto si mette a capo, grazie alla sua esperienza sul campo di tipo militare, delle squadracce, le squadre punitive, le camicie nere, che vanno a cercare lo scontro con i rossi, con i socialisti, con i comunisti, e che vengono per questo stipendiate dai grandi proprietari terrieri. Siamo nel corso del cosiddetto biennio rosso. È il primo dopoguerra, i soldati tornati dal fronte sono tornati ai campi, alla vita di tutti i giorni, ma non c'è lavoro. Nelle fabbriche ci sono gli scioperi. I grandi industriali proprietari terrieri finanziano le milizie fasciste perché riportino l'ordine, secondo quello che pensano loro. Non si fidano dello Stato. In quel periodo Balbo organizza le squadracce, le porta a bastonare tutti quanti i rivoltosi, tutti i contadini che si oppongono alle serrate dei padroni. Quando un prefetto decide addirittura di mettere al bando il porto pubblico del manganello, Balbo reagisce alla sua maniera, fa sostituire ai suoi uomini il manganello con gli stoccafissi. Sì, quei pesci essiccati che poi vengono fatti rinvenire e cotti funzionano allo stesso modo. Non si viene più manganellati col manganello, ma con lo stoccafisso. I bozzi, le chimosi, gli ematomi sono sempre gli stessi, però in maniera diversa. E poi finita la spedizione punitiva, si va a mangiare. Sembra tutto così incredibile, no? È uno squadrismo quasi bucolico. Ma non c'è niente da scherzare, non c'è proprio niente da farci battute sopra. E se ne accorge la popolazione di Ravenna, quando, tra il 26 e il 27 luglio del 1922, in seguito all'omicidio di un simpatizzante fascista, Balbo organizza la cosiddetta colonna di fuoco. Con le minacce si fa consegnare dai prefetti della zona alcuni veicoli su cui carica i suoi squadristi, li porta a Ravenna e lungo la strada mette a ferro e fuoco tutte le case del popolo che trova. Terrorizza il territorio che va da Ferrara a Ravenna per 48 ore. Afferma la sua padronanza del territorio. È in questo periodo che Balbo si scontra con un politico socialista molto energico, Giacomo Matteotti. Non si piacciono, è pacifico. Ai comizi di Matteotti è sempre presente qualche spia mandata da Balbo, che vuole essere informato su qualunque cosa. Matteotti sappiamo che fine ha fatto. La sua volontà di denunciare le violenze del nascente regime, le violenze delle squadracce, e un certo malaffare diffuso, gli costerà la vita. Ma prima ancora, c'è la marcia su Roma. Mussolini ha deciso di prendersi il governo con la forza, puntando sulla pavidità del sovrano, che secondo i suoi calcoli non avrà il coraggio di accettare la proposta dell'esercito di dichiarare lo stato d'assedio e di prendere a cannonate i fascisti. Balbo, che ormai si è fatto un nome e una reputazione, viene chiamato a guidare una delle colonne che dovranno convergere su Roma. Uno dei quadrunvi ricce già è Michele Bianchi, l'ha scelto Mussolini in persona. Balbo recluta gli altri due, Cesare e Maria De Vecchi, che come lui è stato passone a Piazza Gesù e come lui si è assonnato. Poi Emilio De Bono, che in realtà non è una prima scelta. Si vorrebbe Teruzzi oppure Gandolfo, ma non sono disponibili per vari motivi. Si punta su questo vecchio militare, De Bono. Prima di giungere a Roma, Balbo dimostra tutta la sua abilità politica andando a Firenze, disinnescando quella che sarebbe una bomba terrificante per il fascismo. Perché a Firenze, Tullio Tamburini, capo delle squadracce, ha messo nel mirino niente popò di meno che il Duca della Vittoria, Armando Diaz, che è in città per un ricevimento. Tamburini vuole arrestare tutti gli ufficiali, Diaz compreso, e bastonarli. Perché? Perché si stanno intromettendo nelle questioni fasciste. Balbo arriva, calma Tamburini, libera gli ufficiali, dispone che il passaggio in città di Diaz venga accolto da applausi, lanci di fiori e da tutto ciò che è dovuto a un eroe di guerra. È una mossa propagandistica eccezionale. Forse anche per questo motivo l'esercito, il reggio esercito, si ammorbidisce. Forse anche per questo motivo il re d'Italia non firma lo stato d'assedio. Forse anche per questo motivo la marcia su Roma si conclude con un successo e Mussolini può ottenere l'agoniato incarico di capo del governo. Da quel momento in avanti Balbo diventa uomo di governo, entra e fa parte del Gran Consiglio, diviene comandante generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, insomma le squadracce che si danno un'organizzazione da milizia paramilitare. Addirittura fonda un giornale, il Corriere Padano, che deve fungere praticamente da occhio del padrone a Ferrara e d'Intoni. Viene affidata la direzione a un amico personale di Balbo, Nello Quilici, il padre del famosissimo Folco Quilici. Qualche mese dopo Balbo comincia ad avere i primi problemi. Il primo problema arriva proprio dalla sua zona, da Argenta, provincia di Ferrara, campagna agricola. Lì i suoi squadristi hanno ucciso un prete, l'arciprete Don Giovanni Minzoni. È stato ammazzato a bastonate. Perché? Perché Minzoni si opponeva alle pratiche fasciste. Perché Minzoni appoggiava la gioventù locale, l'insegnamento alla gioventù e le rivendicazioni degli agrari, di braccianti, di quelli che vorrebbero lavorare la terra senza morire di fame. Minzoni viene ammazzato e tutti guardano verso Balbo. Se sono stati i suoi squadristi, l'ordine non può che essere partito da lui. Ma alla fine Balbo se la cava. Le accuse sul suo conto vengono fatte cadere, molto probabilmente per interesse. Anche il delitto Matteotti effettivamente lascia qualche stracico. Ma nessuno pensa che Balbo possa essere coinvolto. D'altronde poi il discorso di Mussolini del gennaio del 25 scomprerà il campo dei dubbi. Il 6 novembre 1926 per Balbo è una data molto particolare. Viene nominato settore segretario di Stato e ministro dell'aeronautica. Quell'aeronautica che è ancora abbastanza embrionale, che per tanti anni ha vissuto di sperimentazioni, che è stata affidata un po' sotto tutela al reggio esercito, tant'è vero che durante la Grande Guerra i piloti erano tutti ufficiali di cavalleria. Ebbene, quell'aeronautica diventa indipendente. Balbo, che ancora non ha il brevetto di pilota, lo prenderà nel 1927, diventa il nome tutelare dell'aeronautica italiana. Avvia la fondazione della cosiddetta città dell'aria a Guidonia, fa nascere un centro sperimentale di ricerca sull'alta velocità a Desenzano del Garda, promuove la partecipazione dell'Italia alla Coppa Schneider, la competizione riservata proprio all'alta velocità degli aeroplani. Insomma, Balbo diventa il patrono di quella che diventerà la cosiddetta arma azzurra, l'aeronautica militare. Ed è qui che si fa i primi nemici nell'esercito che si vede sottratto il controllo della nascente aeronautica e nella regia marina perché Balbo si mette di traverso rispetto alla richiesta degli ammiragli di avere dei velivoli a propria disposizione per la ricognizione e soprattutto basati a terra per accompagnare le squadre navali e per missioni di bombardamento in altura, cioè ben a largo. il rapporto con gli altri militari sarà abbastanza difficoltoso. Diventerà critico nel settembre del 29 quando Balbo si vede riconoscere il grado di generale di squadra aerea ad appena 33 anni, giovanissimo. Anche questa promozione fulminea non piace la buona parte delle sfere militari che si vedono scavalcate a pie pari da questo arrogante ragazzo della provincia ferrarese. Ma Balbo ha altre idee per la testa. Vuole magnificare più che il regime proprio il suo ruolo con l'aeronautica e comincia a studiare delle manifestazioni ad effetto, le trasvolate oceaniche. Quello che era riuscito anni e anni prima a Charles Lindbergh che aveva volato senza scalo dagli Stati Uniti fino all'Europa Balbo lo vuole rifare non da solo in solitaria con dei nuovi idrovolanti che siano un esempio tanto della tecnologia italiana quanto della capacità degli italiani di primeggiare anche nel cielo. La prima trasvolata verso il Brasile nel 1931 è già un grande successo. È un successo tale che il presidente del Brasile Getulio Vargas ha consentito a ricevere Italo Balbo a palazzo. È già qualcosa è già un segnale ma il maggiore segnale arriva un paio di anni dopo. Già perché nel 1933 in piena estate dal 1 luglio al 12 agosto Italo Balbo guida una squadriglia di idrovolanti da Robetello fino al Canada e agli Stati Uniti. La cosiddetta crociera del decennale passa alla storia al punto che Balbo diventa un personaggio pubblico un personaggio del jet set un divo una celebrità un uomo che viene sui francobolli dalle copertine delle riviste dai quotidiani dai programmi radiofonici dal cinema. Italo Balbo diviene forse il volto rispettabile del fascismo all'estero quando arriva a Chicago il sindaco di Chicago addirittura gli dedica la Italo Balbo Avenue e non solo gli Siu i nativi americani gli danno un titolo onorifico lo chiamano capo aquila volante è così incredibile la popolarità di cui gode Italo Balbo che anche in Italia qualcuno comincia a porsi qualche domanda Balbo tra l'altro a differenza di Mussolini parla un buon inglese si presenta alla radio americana e tiene un discorso appunto in inglese spiegando illustrando la trasvolata e dando lustro al suo paese per gli italo-americani ma ancora di più per gli statunitensi gli wasp che hanno sempre guardato con sospetto per non dire di peggio gli italiani con Balbo si cambia musica Balbo è un personaggio bisogna tenerne da conto al suo ritorno in Italia Balbo viene promosso maresciallo d'Italia il massimo cui potrebbe aspirare ma in quel momento Balbo si rende anche conto di essersi fatto un nemico molto potente non è un generale non è un ammiraglio non è un prete cattolico non è nemmeno un antifascista è il peggior nemico che possa avere è lui è Mussolini già perché il duce non apprezza si è reso conto Mussolini che Balbo gli sta pregando la luce dei riflettori all'estero si parla molto di più di Italo Balbo che di Mussolini e del fascismo e questo al dittatore proprio non va giù arriva il punto Mussolini di proibire ai giornali di pubblicare il nome di Balbo più di una volta al mese il minkul pop da direttive precise Balbo è diventato ingombrante e diventerà sempre più ingombrante e scomodo perché Balbo diventerà la voce critica del fascismo a Balbo ad esempio non piace l'alleanza con Hitler la giudica spropositata pericolosa non gli piace l'avventura in Spagna dopo la conquista dell'Etiopia che comunque è costata molto in termini di denaro e non solo all'Italia le forze armate italiane avrebbero bisogno di riorganizzarsi modernizzarsi e invece Mussolini è andato all'avventura mandando ben quattro divisioni mascherate da truppe volontarie in Spagna con dispendio di materiali e di soldi materiali e soldi che potevano essere utilizzati in tutt'altro modo l'avventura di Spagna è costosa e non porta nessun progresso tecnologico a differenza di quello che avviene ad esempio per la Germania nazista che può invece testare sul campo gli Stukas gli Eichel e i cannoni flac da 88 mm le truppe italiane non se la passano bene in Spagna e di questo Balbo è consapevole e comincia a criticare il regime diventa ancora più critico nel 1938 quando Mussolini per compiacere Hitler vara le leggi razziali Balbo non gradisce un po' perché amici ebrei è cresciuto a Ferrara a poca distanza dalla famiglia Ravenna famiglia di ebrei molto in vista in città lui stesso è amico della famiglia Ravenna e ha molti amici ebrei alcuni di questi sono anche iscritti al partito nazionale fascista Balbo non approva quando viene spedito in Libia in una sorta di esilio dorato lontano da Roma lontano dalla mondanità lontano dai riflettori Balbo amministra la colonia come vuole lui è costretto a piegarsi alle leggi razziali imponendo ai commercianti ebrei di tenere aperto il sabato di non osservare lo sabato ma non prende provvedimenti restrittivi non arresta ebrei nemmeno quando viene chiesto dai tedeschi non è il suo modo di fare lui non crede in queste cose peggio ancora va quando Hitler sottoscrive tramite il proprio ministro Forri Bentrop il patto con Stalin è una sorta di affronto per Balbo che ritiene che il tedesco abbia esagerato che abbia rotto così facendo il patto d'acciaio sottoscritto solo poche settimane prima con l'Italia insomma Italo Balbo diviene il nemico numero uno di Benito Mussolini in Libia Balbo porta la sua esperienza porta il suo carisma porta il suo modo di organizzare la vita fonda scuole fonda associazioni di assistenza promuove le infrastrutture tant'è vero che la strada costiera verrà chiamata in suo onore strada balbia aiuta i coloni italiani che arrivano dalla Calabria e dal Veneto per cercare di trasformare il deserto in un piccolo giardino soprattutto nel Gebel Cirenaico dove gli sforzi dei contadini italiani produrranno anche la nascita di un acquedotto quando scoppia la guerra in Europa Balbo prega Mussolini di non accodarsi alla follia di Hitler sa benissimo Balbo che l'Italia non è pronta non lo è pronta in quel momento non lo sarà breve secondo i calcoli di Balbo e di altri militari ci vorrebbero due forse tre anni perché l'Italia sia pronta per entrare in guerra a prescindere dalla parte che si andrebbe ad appoggiare l'Italia non può permettersi lo sforzo ma alla fine Mussolini si lascerà abbagliare dai facili successi di Hitler prima in Polonia poi in Norvegia infine nel Benelux in Francia per entrare nel conflitto la famosa frase delle centinaia di morti da scaraventare sul tavolo della pace Balbo non è contento Balbo non è assolutamente favorevole ma Balbo è costretto ad obbedire e la situazione militare in Libia appare subito piuttosto complessa non tanto per il doppio fronte perché d'altronde con i francesi ci sono solo piccole scaramucce al confine e dopo pochissimi giorni di guerra la Francia capitola chiudendo appunto il fronte tunisino i problemi sono ad est in Cirenaica ai confini con l'Egitto Balbo è al comando di un'armata ma è un'armata appiedata priva di una vera e propria componente corazzata i pochi carri che ci sono sono pessimi sono le tanchette L3 o sono i carri M11 che hanno una valenza bellica molto ma molto limitata mentre gli inglesi che sono numericamente inferiori puntano sulla mobilità le punture di spillo le pattuglie di autoblindo che irrompono dal confine attaccano i capisaldi li terrorizzano a volte mettono in fuga le guarnigioni e poi rientrano in Egitto Balbo fa quello che può requisisce gli autocarri fa montare dei pezzi di artiglieria o delle mitragliatrici si inventa i cosiddetti pattuglioni autocarrati che fanno la spolla fra i vari capisaldi lungo il confine per cercare di intercettare le autoblindo o comunque dissuaderle da queste puntate offensive poi sfrutta la sua adorata arma aerea sfrutta gli aeroplani che ci sono per provare a limitare le incursioni delle autoblindo addirittura a metà giugno si fa fotografare dopo che quel suo aereo ha attaccato un autoblindo isolata inglese nel deserto e l'ha costretta alla rete è una delle ultime foto di Italo Balbo perché il 28 giugno del 1940 Balbo decide di alzarsi in volo la derna vuole raggiungere Tobru la fortezza sul mare Balbo si mette ai comandi di un trimotore SM79 un trimotore molto diffuso nella regione aeronautica è un aereo da bombardamento tattico aerossilurante da trasporto può fare un po' di tutto molto versatile certo non ha le capacità di un bimotore ma è molto diffuso è molto utilizzato si mette ai volanti di questo SM79 e viene accompagnato da un altro trimotore comincia a volare e viene informato che a Tobruk c'è un'incursione alleata non da terra dal cielo un bombardamento non ci dà peso l'aereo di Balbo e l'altro SM79 arrivano su Tobruk quando l'incursione aerea alleata è già conclusa da un pezzo Balbo vede dalla cabina di pilotaggio le colonne di fumo che si alzano dalla zona del porto dove i britannici hanno colpito alcuni depositi di benzina vuole atterrare vuole rendersi conto della situazione vuole atterrare così in fretta che non avvisa l'attore di controllo di Tobruk è convinto che la livrea del suo aereo il fatto che sia un trimotore il nome dipinto sulla carlinga il nome in codice basti a identificarlo così non è perché mentre il suo aeroplano si sta avvicinando all'aeroporto proprio dal porto di Tobruk parte un tiro di contraerea fittissimo guidato dal vecchio incrociatore San Giorgio una vecchia nave da guerra che è stata ormeggiata in rada come batteria galleggiante si dice che proprio un colpo partito da uno dei cannoni del San Giorgio riesca a centrare in pieno l'aereo di Balbo l'aereo che lo accompagna guidato dal generale Porro fa una manovra diversiva evita i colpi e se ne va quello di Balbo che stava ultimando la manovra di avvicinamento all'aeroporto viene invece centrato in pieno al punto che si incendia e precipita al suolo muoiono tutti muore Balbo muoiono i suoi copiloti muore anche Nello Quilici che era con lui probabilmente per documentare il volo del maresciallo d'Italia nonché governatore della Libia ed è in questo momento che nasce la leggenda nera sulla morte di Italo Balbo è in questo momento che più di qualcuno si domanda ma quella cannonata quel tiro di contraerea è stato un fatale e tragico incidente o è stato voluto forse si voleva far fuori un nemico ai Mussolini forse si è colta l'occasione per risolvere alla radice un problema del regime ne è convinta la contessina Florio la vedova di Italo Balbo che per lungo tempo ha sostenuto che la morte del marito fosse stata voluta da Mussolini in persona ne è convinta la vedova Balbo la signora Florio al punto da informare del fatto il prefetto di Ferrara e di sporgere denuncia al capo della polizia capo della polizia che fa rapporto a Roma e riceve richiesta di tenere la signora calma e di controllarle comunque i movimenti la signora non starà zitta continuerà per tutto il resto della sua vita a ribadire che il marito era contrario al conflitto e che qualcuno a Roma lo vedeva morto a tutti i costi non basta che il presunto autore del colpo killer il capo pezzo Claudio Marzola dell'incrociatore San Giorgio dica che è stata una fatalità assumendosi la responsabilità di quel colpo fatale non basta nemmeno che le varie inchieste condotte nel tempo non solo dai militari ma anche da ricercatori indipendenti affermino appunto che si sia trattato di una tragica fatalità persino uomini di destra come Indro Montanelli e Mario Cervi autori di una collana intitolata Storia d'Italia che per chi non l'avesse vi invito almeno a sfogliare si trova in tutte le biblioteche d'Italia sostennero appunto la tragicità anche Arrigo Petacco forse uno dei più grandi storici per quello che riguarda la Libia e non solo ha confermato la tesi del tragico incidente eppure le teorie del complotto hanno continuato a circolare a circolare al punto che qualche anno dopo parecchi anni dopo Polco Quilici venne avvicinato da un guardia marina un ex guardia marina di nome Aldo Massa che quel giorno di fine giugno del 1940 si trovava in un bunker costiero a Tobruk e aveva notato la presenza in rada di un sottomarino italiano il Marcantonio Bragadini che non doveva trovarsi lì che non era registrato da nessuna parte che era arrivato poco prima dell'incursione alleata e che era ripartito poco dopo che l'aereo di Balbo era precipitato al suolo in fiamme forse il colpo fatale non era partito da San Giorgio ma da questo sommergibile e se così era stato perché il Marcantonio Bragadini era arrivato in rada da Napoli ed era ripartito subito perché non ammettere la responsabilità certo è una tesi suggestiva anche questa certo che non c'è data una prova tangibile di una piena volontà di Mussolini o di qualche altro gerarca di uccidere Italo Balbo quello che sappiamo è che con la morte di Balbo sostanzialmente muore la colonia italiana della Libia muore perché al posto di Balbo tornerà Rodolfo Graziani il macellaio del Jebel Cirenaico l'uomo che prima dell'arrivo di Balbo aveva terrorizzato le popolazioni locali con campi di concentramento con rappresaglie con massacri indiscriminati Graziani sarà anche l'autore della disfatta di Sidi al Barrani a inizio dicembre del 1940 e verrà preso da una crisi di nervi tale da scappare con i resti delle proprie divisioni fino alla Sirte poi arriverà un altro uomo un uomo dal sedere basso e dagli zigomini sporgenti a cercare di raddrizzare la situazione ma troverà una colonia di Libia tagliata in due un Jebel invaso dagli ingresi l'acquedotto quell'acquedotto che i coloni italiani avevano realizzato con tanto impegno devastato e spostato in Egitto a quel punto per rifornire di acqua fresca le truppe britanniche e una situazione militare piuttosto grave un uomo giunto da lontano per provare a risistemare le cose un uomo di cui parleremo prossimamente in una serie a lui dedicata un uomo di nome Erwin Rommel a Grazie a tutti.